Formula che funziona non si cambia. Anche quest'anno grande successo nel progetto Anch'io sono la protezione civile. Sono più di 300 i campi scuola organizzati in tutta Italia. Migliaia di ragazze e ragazzi tra i 10 e i 16 anni si sono confrontati con chi quotidianamente fa protezione civile, condividendone non solo nozioni pratiche ma soprattutto passione e altruismo. La prima cosa che viene in mente è l'aiuto che viene dato alle persone e che è un aiuto gratuito tra virgolette però in realtà viene ripagato appunto dalla felicità delle persone che vengono aiutate. Al campo scuola organizzato dall'associazione Le Aquile hanno partecipato 30 ragazzi e sono stati coinvolti più di 60 volontari. Il quinto anno che facciamo il campo scuola che sono la protezione civile, quest'anno è stata una riconferma ancora che funziona perché i ragazzi che hanno fatto da partecipanti al campo di qualche anno fa adesso sono quelli che collaborano per il risultato di questo campo. Man mano ogni anno serve a migliorarci, a creare nuove esperienze, a creare delle nuove visite, nuove lezioni, nuove prove pratiche per poter trasmettere nel minor tempo possibile, nel modo più efficace possibile ai ragazzi ciò che molto spesso non viene notato nella quotidianità. Serve una preparazione effettiva e specializzata in diversissimi campi in cui opera la protezione civile e chiaramente vengono fatti corsi per formare appunto gli operatori in modo che nessuno si trovi in difficoltà nell'affrontare le diverse situazioni. Adesso ho avuto un'ottima impressione sia sui volontari che sui compagni che mi hanno accolta, infatti ho fatto anche molte amicizie e mi sto trovando veramente bene. Dei familiari che partecipavano a dei campi abbiamo parlato molto di protezione civile, di quello che svolge ognuno all'interno di questo campo e quello che fanno fuori. Ho deciso di partecipare perché appunto volevo seguire questo membro della mia famiglia e quindi continuare anche dopo questo campo a fare questa esperienza. Ogni anno è sempre bello, più concreto, si migliora e funziona. Divertimento e formazione sono le parole chiave dei campi scuola. Gli obiettivi immediati e di medio termine, ma il vizio dell'associazione Le Aquile è quello di guardare al futuro. Lui è l'ultimo arrivato sia a metà misericordia e a metà Aquilotto e Aquile di Mister Bianco. È un'esperienza fantastica. Speriamo che col crescere, con i nostri principi, anche lui andrà avanti con questa strada e noi faremo nel nostro meglio. Poi alla fine quando sarà grande mi sceglierà lui. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.